ehi la ciurma io sono mazzatess e ben ritrovati qui di nuovo su expeditions roma andiamo a vedere che cosa ci condurrà qui questa gente ah è quella che c'era l'armata che abbiamo sconfitto quando hanno cercato di attaccarci ok io ho selezionato qua cioè voglio ok prendiamo la nostra gente solita cheso sineros bestia julia e teia neira pronti andiamo il tizio tra l'altro è sempre ai bagni probabilmente sta boostando di brutto tutta la gente speriamo perché mi pare che dava il boost anche alla legione l'altra la aprorum quella che è insomma era messa malino per cui buono seguiamola e figurati se non ci fanno l'imboscata il fatto che come qualsiasi strada prendiamo probabilmente ci portano uguale allora c'è un'altura qua non c'è altro però proverei a passare qua cercando di capire cosa succede perché non voglio lanciarmi giù così c'è una cassa va bene ma allora c'è della gente non possiamo fare nulla da qua con tre entrate una di qua una la e una di sotto con la di sotto non possiamo arrivarci ma proverei a tornare in live e vedere di studiare l'altra zona anche una prima occhiata non sembra che ci stiano aspettando anche se sono ben difesi e ben trincerati poi probabilmente stiamo facendo tutto sto giro qua e non serve però allora qua vedo un tizio non so se da qua riusciamo a ok ok ah vedi quello a sinistra è poco sorvegliato lo a sinistra cosa intende questo? mi sa di sì più che altro per il fatto che qua ci sono i tizi anche se poi scappano no proverei comunque ad andare qua a sinistra cioè immagino che intenda questo di sinistra visto che abbiamo ruotato la mappa non è più mica certo no però è più o meno come ce l'avevamo all'inizio per cui è che qua è molto più stretto da passare cioè ci sono forse solo due cosi qua invece ci sono si passa più facile attacchiamo di qua ah dobbiamo fermare lui più che altro per cui allora tu vai davanti e anche iulius mazetes va davanti eeeh Deia Neira qua iulia ti vorrei qua sineros qua e bestia qua ah iulia tu qua hai vista su di lui non lo so però ci proviamo allora non può spottarlo là ma andiamo addosso andrei quasi con sineros per togliergli il la resistenza per lui c'ha quello che fa l'armor shred allora facciamo così si non lo so vai fai un armor shred va bene va bene ah ottimo già è vero che lui c'ha il coso che quando gli altri attaccano lui però cavolo così non so se iulia abbastanza movimento per allora vai così adesso dovrebbe avercelo a vista no ma questo da bleeding e questo da burning però il crippled è più facile ce lo rallenta eeeh è andato lel niente pensavo peggio invece ok nero vai di qua bestia stai qua e chiede ancora tutti e non quello dei movimenti però non voglio neanche buttarmi in mezzo alla mischia a caso no aspettiamo ah è andato nel panico quello ahia non contro iulia please è stupido cioè vabbè ah è vero ma sono anche difficoltà facile per cui ahia ha preso i pilum se mi aspettano là meglio per me ah no ok mi sembra strano allora lui ha delle roba a due di distanza no o usiamo gli inspire o usiamo il fatto che fanno tutti più da no userei gli inspire questo fa lo secca di fisso e ci può anche stare e poi andare qua e boom acqua non vorrei sparpagliarmi troppo però eh per cui tanto meno quello è un arciere per cui adesso ci avrà un po' di altri guai a cui pensare più che altro Giulia chi riesce a vedere da qua ah ma Giulia ma ecco vada le facciamo il che avrei scommesso quando lo tiravo giù dobbiamo usare l'inspire allora ok ah però non era un un tiziuncolo per cui nulla però almeno bestia può passare qua facciamo il questo e poi one two non è caduto vabbè lui mi metterei qua così almeno non dovrebbero poterlo restare e con lei farei un interrupt della miseria ciao ciao ahia burning no non mi piace il burning non mi piace per niente pure dobbiamo chiudere la in fretta perché qua siamo tutti bruciando fortissimo allora ma questo non c'è praticamente più niente di vita per cui gli facciamo questo e poi con questo andremo addosso ah no cavolo lui è lui è scudato e doveva togliere lo scudo per forza ma no è proprio giù con lo scudo e là possiamo fare poca roba eeeh vai credo passare con lui e poi non lo stiamo mica se c'è un giovellotto fai che tirare giù questo si così almeno diamo addosso lui non lo tiriamo mica giù comunque ah gli avessi messo il bleeding con lei forse ma ma c'è ancora Sineros c'è ancora Sineros Sineros vai qua e tira giù lui ottimo può ancora fare il cura ma sì ma non abbiamo nessuno di messo particolarmente male quello messo un po' peggio il bestia che però è là abbastanza sereno eeeh però chi rimane in piedi questo questo e quello allora questo non possiamo farci nulla nessuno dei due è una matricola l'altro è terrorizzato però per cui allora andrei così e farei un crippling che dovrebbe essere sufficiente ok ma quello si è spaventato ma adesso si è spaventato porca miseria dai è andata comunque era molto facile ma è vero che abbiamo diminuito la difficoltà per cui bestia facciamo che parti facciamo prima questo ecco almeno adesso sicuro e poi doppio dei danni sui plank andata ok tutti tranquilli abbiamo usato un pilum si sono tutti ammazzati ah ok gli ha impedito di ammazzarsi Decimus legio 17 è un morto dove uno falle due si riusciranno gloria a Roma ok la legge diciassettesima non ho mai sentito di questa lezione di cui stavi blatterando il 17 è un numero inusuale ah no ho sbagliato ha giurato fedeltà alla legione della morte anche se lo uccidiamo molti prenderanno su posto non essere sciocco dimmi chi è questa legione della morte e ti lascerò andare no non avrei nessuno dei due se me lo dici ti farò soffrire ok vuole farlo soffrire senza lo stiamo torturando praticamente o gli togliamo un dito o gli togliamo un orecchio togliamo un orecchio non voglio farlo ma non mi lasci scelta ok ok fai in fretta chiede in un orecchio in un orecchio segreto il nostro è un grande tomba all'est ogni due mesi ricevono le istruzioni e le pagazioni ah ogni covorte si trova in un luogo segreto questo si trova in una tomba a est ogni due mesi ricevono il pagamento e le istruzioni eh sì Wixie è l'anagramma di XVII della 17esima prendere istruzioni da chi ok ok non so il nome ok ci sono degli elenchi di tutti quelli che proteggono questo suono la verità a me se non abbiamo ancora il resto la tortura non aiuterà porca lasciami vivere catturiamolo direi l'idea di portarlo indietro al campo dea nera figo che ha messo l'animazione anche per sta robina qua di prendere il tizio portarlo via sono curioso di vedere scompariranno di sicuro ci sono li seguiamo poi a un certo punto farà pup non avranno di sicuro speso dei soldi per animare lei che sta alla cavallo e se lo porta dietro usciranno di là se no altrimenti non fanno un pop incredibile invece lo hanno fatto lo stesso vabbè va bene datemi tutto andiamo a raccattare cosa che abbiamo qua dei cadaveri ma direi che posso farlo anche off camera sono già passati più di 20 minuti quindi io vi ringrazio per la visione vi invito come al solito a lasciare un mi piace un commento costato per non sapere cosa avete pensato dei video iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e vi auguro una buona giornata ciao a tutti ciao a tutti